Buongiorno a tutti, sono la dirigente scolastico da poco tempo di questo istituto comprensivo Francesco Riso e colgo l'occasione di inviare i migliori auguri di buone feste a tutti i genitori, agli alunni e all'intera cittadinanza. Sono molto contenta di essere qui a Isola e ho avuto occasione di conoscere molte persone e ho avuto una calorosa accoglienza da parte di tutti. Con grande piacere ho avuto l'onore di inaugurare la ristrutturazione dell'istituto Francesco Riso della scuola primaria e spero che in avvenire possiamo insieme con tutta la cittadinanza poter avere un edificio e anche svolgere delle attività che mirino a formare i nostri ragazzi e farli raggiungere obiettivi sempre più alti qui nel paese loro nativo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.